buongiorno a tutti eccoci giunti al secondo appuntamento con color spa oggi colleremo ulteriormente il colore che abbiamo fatto nella puntata precedente con il color maintenance system per andare ad esaltarne lucentezza pigmento e per avere un risultato ancora più bello e duraturo nel tempo. Applicheremo questi prodotti T3 Easy Color Tingle Treatment, effetto protezione del colore, è un trattamento di bellezza vegano che dona luminosità e longevità ai capelli trattati e colorati. L'ingrediente alla base di questo trattamento è il tè rosso africano ricco di preziosi elementi ma soprattutto di importanti proprietà antiossidanti che offrono un'azione efficace contro gli effetti negativi dei dannosi elementi ambientali. Sui capelli il tè rosso africano esercita un'azione di protezione del colore contrastandone lo sviadimento nel tempo. Grazie alle sue proprietà lenitive è anche indicato per gli arrossamenti del cuoio capelluto. Agua Pui Mostur Mist, uno spray idratante leggero senza risciacquo, reinfonde e riattiva la naturale idratazione ridonando aminoacidi liberi, minerali e preziosi nutrienti. Indicato per capelli sottili, aumenta la districabilità, dona lucentezza ed elasticità. Ristabilisce il mantello idrolipidico. E adesso passiamo al tonalizzante per una lucentezza eccezionale. Dedemi condiziona i capelli mentre li colora, offrendo risultati incredibilmente ricchi con lucentezza eccezionale. Delicata formula condizionante, questo colore ha solo deposito, privo di ammoniaca, è incredibilmente delicato ed offre fantastico condizionamento. Color Protect Post Color Shampoo, lo shampoo ideale subito dopo il servizio colore, specificatamente formulato per rimuovere delicatamente il colore in eccesso da capelli acute. L'estratto di semi di finocchio aiuta a rallentare l'ossidazione, a prevenire la perdita di colore e a ridurre danni superficiali. T3 Special Color Conditioner, effetto protezione del colore, trattamento di bellezza vegano che dona luminosità e longevità ai capelli trattati e colorati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.